Io in questa sub non ne sto facendo nessun ruolo. Eh si vede. Eh si vede, dice Beatrice, sarcastica. No, posso dire? Io quello che vedo di Iago è che, e poi lo ha ammesso, secondo lui il GFL reality del giudizio e infatti il suo ruolo è quello di giudicare. Giudica di qua, giudica di là, tra una citazione e l'altra. Però il tuo ruolo, la tua carne, il tuo essere, la tua vita, la tua storia non ce l'hai ancora raccontata. E allora Lorenzo è vero che ha mille difetti, però gioca con la vita sua, gioca, cioè si mette in gioco Iago. Tu? Beatrice, Beatrice, no un secondo, un secondo, lasciami rispondere. Tu hai un ruolo in questo grande fratello e secondo me essere una delle streghette di Macbeth. Sì, ti ho sentito, ne sono fiera, sono una strega ufficiale, grazie Iago. Io almeno il ruolo ce l'ho. Esatto.